sport motori l'edizione numero 51 della rassegna gubina vede trionfare il nipote d'arte domenico scola migliaia di spettatori lungo i tornanti della gubbio madonna della cima calcio il gubbio cade 3 a 1 a riterbo e dice addio alla coppa italia sabato parte il campionato stasera mister magi ospite di drg alle ore 21 perugia mercato ancora aperto ad una settimana dall'esordio a cesena serie d città di castello cappa o con la pianese in coppa italia questa sera il derby tristina e sansepolcro buonasera gentili telespettatori di trg benvenuti all'appuntamento dedicato allo sport l'apertura con il trofeo luigi fagioli che ieri ha chiuso la sua 51esima edizione una tre giorni da record sia per l'affluenza di appassionati in città sia per i record di piloti che ha segnato l'edizione 2016 che quest'anno vista anche la mancata partecipazione di simone fagioli ha incoronato un nuovo vincitore ovvero il nipote d'arte domenico scola che vince a gubbio per la prima volta dopo che suo nonno anche lui domenico ci era riuscito nelle edizioni 1971 1973 facciamo però il riassunto del weekend di gare in questo servizio anche la 51esima edizione del trofeo luigi fagioli vuole in archivio e lo fa con un nuovo imperatore che domina le due mance di gara interrompendo il domino assoluto degli ultimi dieci anni targato simone fagioli l'edizione 2016 infatti sarà ricordata per il successo del nipote d'arte domenico scola che trionfa mettendo il riga denizardo e omar maiona con il tempo complessivo di 3 10 97 dopo che era andato vicino al record stabilita per un anno fa dallo stesso fagioli fallendo la saldo per un solo seconda una manciata di centesimi scola che si è imposto nell'assoluta nella categoria delle monoposto e due ss riscrive il cognome calabrese sull'albo d'oro dei vincitori dopo che nel 1971 e 1973 erano state le due volte di domimi sonone omonino domenico alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico il trevigiano denizardo secondo assoluto in rimonta sulla lola zaitek il sassarese omar maiona terzo assoluto al volante della norma m20 con la quale vince il gruppo delle biposto e due sc subito a ridosso del podio michele fattorini quarto assoluto e terzo di posto di gara a due colto sull'osella pia 2000 onda per il giovane ordetano un risultato positivo che lo rende anche il miglior pilota ombro classificato applausi anche per franco cinelli adolfo bottura de gasperi achille lombardi luca ligato tra i primi migliori piloti augubini troviamo invece i veterani mauro rampini gianni urbani rispettivamente sedicesimo e diciottesimo il gruppo e1 e2 sh è terreno di conquista di manuel dondi su fiat una vittoria cruciale in ottica tricolore regolando il romano marco iaco angeli nella monomarca delle chia venga 1.6 turbo alimentata gpl del campionato italiano energie alternative per le prime volte ospitato a gubbio la spunta dopo due tiratissime gare l'abruzzese francesco de julis che resiste per mezzo secondo al tentativo di rimonta del leader di campionato nicola gonnella vincitore in gara 2 fra le turismo in gruppo a domina la mitsubishi lanciar della trentina gabriella pedroni lorenzo mercati su mitsubishi vince il gruppo n tenendo dietro l'esperto altotesino rudibicciato leader attuale in cvm nella categoria resistarte dopo una lunga e dura lotta giacomo liuzzi vince con un solo decimo di vantaggio nelle due prove aggregate su ivan pezzolla e di appena 4 decimi su oronzo montanaro terzo successo consecutivo non digitale nella competizione delle auto storiche per uberto bonucci con il tempo totale di 3 39 19 irraggiungibile per la diretta concorrenza del pisano pierolottini secondo il complesso di san benedetto ha fatto da teatro la cerimonia di premiazione con la speed motor grande protagonista vista la vittoria alla seconda dopo quella del 2014 della coppa per scuderie arrivata grazie alle ottime prove dei vari franco manzoni romano fortunati filippo ferretti luca giovannoni marco sbrollini paolo biccheri e il debuttante riccardo urbani l'applauso finale va poi all'organizzazione del cieca capace di gestire al meglio tutta la tre giorni di competizione con 256 piloti al via dei 268 iscritti un'edizione da record che proietta già il comitato organizzatore alla prossima edizione 2017 e passiamo al calcio con il gubio che esce sconfitto dalla gara con la viterbese saluta la coppa italia i rosso blu falliscono dunque la missione di passare il turno cadendo per 3 a 1 in casa della compagine naziale che quindi stacca il pass per la fase successiva del torneo ora però i rosso blu si concentrano sulla settimana che porta all'esordine in campionato contro il pordenone fissato per sabato pomeriggio settimana cruciale anche per il mercato e dettagli l'operazione narciso con il portiere che prima della firma però deve ancora liberarsi dal foggia i fari sono tutti puntati però sull'attaccante di spessore che serve per completare la rosa il ds pannacci conta di chiudere l'operazione entro la settimana infine due ex rosso blu si accasano in lega pro massimo loviso all'albino leff l'ex nazareno belfasti invece proseguirà la sua carriera alla carrarese ma ripercorriamo la gara di ieri contro la viterbese in questo servizio la prima sconfitta della stagione coincide con l'eliminazione dalla coppa italia di lega pro per il gubio di mister magi i rosso blu cadono sotto i colpi di una viterbese già formato campionato e con uno di annarilli che non si fa tradire dall'emozione di ritrovare di fronte la sua ex squadra chiudendo la saracinesca in più occasioni prima di essere beffato da lunetta l'ultimo arrivo di grido sforzini invece mette il timbro sul tre uno finale che vuol dire pass per il turno successivo maggi ripropone il romano e croce a centrocampo con valagussa in panchina in attacco la novità rispetto al match con la sambe l'inserimento di lunetta al posto di ferri marini ma il gubio è lontano parente di quello della prima uscita ufficiale tanto che al settimo va subito sotto invernizi serve abilmente cuffa che libera un diagonale sul quale volpe può fare ben poco la viterbese ci prende gusto e passano appena due minuti quando lo stesso invernizi sfiora il raddoppio con un alto diagonale sul quale però volpe questa volta riesce a dire di no minuto numero 12 questa volta tocca di hop provarci dopo aver superato zanchi l'uscita di volpe però è risolutoria la prima avvisata del gubio porta la firma di candellone che sottoporta chiama gli annarilli ad un difficilissimo intervento al diciassettesimo è sempre candellone il più ispirato in forma dei suoi a scappare via sul filo del fuorigioco e calciare in diagonale il pallone però non c'entra lo specchio della porta si rivede la viterbese giallo blu ci provano con la conclusione di invernizia al ventottesimo volpe risponde il gubio c'è e batte un colpo alla mezz'ora croce innesca ferretti che di testa fa da torre a lunetta che spaccata ristabilisce la parità a rientro dal riposo però è la viterbese a partire fortissimo dopo appena 30 secondi infatti la difesa rosso blu si distrae concedendo a negli allo spazio necessario per battere a rete volpe il gubio fatica a farsi pericoloso la viterbese è più in palla e dà sempre l'impressione di poter far male tanto che al ventitresimo viene annullato un gol a cuffa per presunto fuorigioco gli ingressi in campo dei vari ferri marini valagussa e petti non portano giovamenti lo fa invece quello dalla parte opposta di sforzini l'esto a ribadire in rete una palla sporca che girovagava in area rosso blu il gubio dice addio alla coppa e si concentra sull'esordio in campionato di pordenone tra poco meno di una settimana le amnesie difensive viste in terra laziale dovranno essere cancellate e questa sera approfondiremo i temi relativi alla gara di ieri soprattutto al debutto in campionato di sabato prossimo a pordenone con il tecnico del gubio giuseppe magi ospite negli studi di trg della puntata di anteprima fuorigioco a cura del nostro direttore in onda alle ore 21 in sommario anche la presentazione di staff dirigenziale tecnico e squadra a san martino andiamo in serie b il perugia riprende a lavorare domani dopo i due giorni di riposo che il tecnico bucchi ha concesso all'indomani della vittoria della sua squadra nell'amichevole di sabato sera contro il teramo un successo in rimonta griffato dalle reti di zebli e di carmine dopo il gol dell'iniziale vantaggio dei padroni di casa con dorazio il programma della settimana prevede la ripresa domani nel pomeriggio da martedì poi solo allenamenti mattutini compresa la rifinitura di domenica prima della partenza per raggiungere cesena teatro dell'esordio in campionato dei bianco rossi e nel frattempo si muove il mercato per del prete si fa sotto con insistenza il crotone il perugia valuta l'offerta e entro la serata di domani darà una risposta in uscita resta sempre francesco della rocca e massadu al san mentre si profila la strada del prestito per il centrocampista gioss in entrata contatti forti con la fiorentina per far arrivare l'esterno gilberto per il reparto avanzato si valuta anche l'ex chievo victor da silva classe 95 a centrocampo sempre calda la pista che porta l'ex udinese battocchio in serie di rai preso a lavorare il foligno dopo il successo nel test contro il ponte valle ceppi di sabato la squadra bianco azzurra aspetta poi per domani rientro in città di evans con dobbia in regolare permesso e non un desaparecidos come dichiarato da guazzolini il mercato in entrata nel frattempo non è del tutto chiuso visto che il colpo finale potrebbe essere rappresentato dall'arrivo di mercai dal castel del piano nel frattempo termina con la sconfitta per 3 a 1 l'avventura del città di castello in coppa italia i tifernati sono stati sconfitti al bernichi 3 a 1 dalla pianese in gol per i padroni di casa buoni insegni intanto questa sera sempre nel programma della coppa italia si sta si affronteranno al buitoni di sansepolcro la formazione bitugense di schienardi e il tristina di zampagna passiamo al volley si chiude con un argento l'avventura dell'ital volley alle olimpiadi di rio i perugini birarelli zeitz e febuti quindi si sono arresi a brasile con la selezau che si è imposta con un netto 3 a 0 medaglia di brunzo invece per l'altro atleta della sir safety con ad perugia lo statunitense russell che vince al tie break contro la russia in serie b1 femminile la tun perugia si è assicurata le prestazioni dell'egubina sarah gaggiotti che torna dunque nel volley giocato a distanza di un anno appena dal suo addio in serie b maschile invece città di castello annuncia marco bartolini come nuovo tecnico della selezione bianco rossa il tecnico succede ad enzo sideri e comincerà a lavorare con la sua squadra da lunedì prossimo infine in serie c femminile doppio colpo della pallavolo castello che ufficializza gli arrivi della palleggiatrice martina ubaldi e della schiacciatrice michela rinaldi ed era questa anche l'ultima notizia dell'informazione sportiva che tornerà domani sera alla stessa ora per tutti i ragionamenti vi ricordo il nostro sito internet www.trgmedia.it per quello che riguarda invece l'informazione in diretta appuntamento a domani mattina alle 7.30 puntuali con la nostra rassegna stampa a voi una cordialissima buona serata